Tampone prima di ogni ricovero programmato, accessi limitati alle strutture sanitarie, visite ed esami solo su prenotazione, prelievi del sangue compresi e sviluppo della telemedicina. La SST Lariana ha definito le linee guida per il graduale ripristino di tutte le attività ordinarie, ridotte o cancellate nella fase più acuta dell'emergenza Covid. Sicurezza e la parola d'ordine, premette Fabio Banfi, direttore generale della SST Lariana, ed è la visione alla base di tutte le ulteriori indicazioni arrivate dalla Regione. Appositi gruppi di lavoro gestiranno la definizione di percorsi per il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna, di quello di Cantù e di quello di Menaggio. Altri si occuperanno di aree di terapia intensiva, blocco operatorio e pre-ricovero, aree d'agenze mediche e chirurgiche, sale operatori e attività ambulatoriale. Gli accessi saranno limitati il più possibile e quindi gli accompagnatori saranno ammessi solo per minori, disabili e utenti fragili non autosufficienti. Restano ancora sospese le visite ai degenti. All'ingresso verrà misurata la temperatura e tutti dovranno indossare la mascherina. Le prestazioni ambulatoriali urgenti restano sempre garantite, mentre per quelle programmate verrà incentivata la telemedicina. Tutti i pazienti che devono accedere alle strutture sanitarie saranno preventivamente contattati per verificare la presenza di eventuali sintomi sospetti. Anche per i punti prelievo diventa obbligatoria la prenotazione e nei prossimi giorni saranno fornite indicazioni precise. A partire da lunedì intanto chiude la centrale telefonica per i parenti dei pazienti covid. Vista la riduzione del numero dei degenti, ad oggi 152 di cui 6 in terapia intensiva, la comunicazione sarà gestita direttamente dal personale dei reparti.